Il consigliere Bartolini, il consigliere Luzzi, non accettiamo provocazioni, è ora di finirla, la seguita è sospesa. La discussione sul piano assunzioni del Comune di Teramo ha acceso gli animi nel corso del Consiglio Comunale, tanto che è stato necessario interromperlo per alcuni minuti. Lei è stato attaccato a sessore dalla minoranza, ha risposto, ma la sua risposta non è piaciuta. Intanto cosa prevede questo piano assunzioni? Il punto era su assunzioni a tempo determinato e indeterminato ha dovuto chiarire diversi aspetti. Innanzitutto devo constatare come probabilmente non tutti avevano letto l'atto che era stato trasmesso loro e quindi mi sono limitato a rileggerlo nell'assise comunale, dando quindi chiarezza a quelli che erano i contenuti già presenti nell'atto che era stato trasmesso ai consiglieri, distinguendo tra i tempi determinati, gli indeterminati e la somministrazione di lavoro. Ma non è tanto questo. Probabilmente quello che ha dato fastidio è che finalmente viene portato un piano delle assunzioni compiuto che ha un senso e che riuscirà di dare programmazione alle assunzioni prossime nel Comune di Teramo. Nel dettaglio cosa prevede questo piano assunzione e soprattutto quando scatta? Prevederà l'assunzione di una serie di figure, tra i quali 17 funzionari con due modalità di reclutamento differenti, 10 istruttori amministrativi, 4 assistenti sociali, 4 vigili urbani, uno specialista di vigilanza, due messi comunali, 4 esecutori ausiliari del Comune di Teramo, un dirigente tecnico, uno specialista del polo museale, 10 educatrici per i nostri nidi dove la carenza è diventata sempre più problematica, come avevamo già denunciato in passato e questa amministrazione si fa carico con questo piano e fa bisogno di andare a intervenire sul tema, tre geometri e tre progressioni verticali per i dipendenti dell'ente. Il punto che non ci sono queste assunzioni, le 10 educatrici promesse, viene rimandato il concorso per le educatrici degli asili nido, quindi ancora una volta si nota la mancanza di attenzione a questo settore, avevano detto che assolutamente non si riuscivano a riprire a settembre, invece il discorso era per un altro anno eventualmente, che avrebbero assunto le educatrici per cercare di tappare le falle e invece viene rimandato ancora una volta, quindi questo è un segnale politico importante e vogliamo capire se questa amministrazione tiene ancora questa eccellenza che sono i nidi di Teramani o non ci tiene. Perché lei si è riscaldato particolarmente durante la replica dell'assessore Goni? Ma lì è stato un discorso che non si rispondeva alle domande ma si è fatto un comizio politico, c'era il tempo per rispondere alle domande e noi venivamo sempre interrotti quando parliamo, perché il Presidente giustamente fa rispettare i tempi, si concede un tempo in più e invece di parlare e dare delle risposte si fa un comizio politico, siamo sentiti anche presi in giro.